Nel 1949 il numero 1 di Topolino ospita una rubrica sui giochi di prestigio. Tutti i stregoni promette faville. Volete far rimanere a bocca aperta la mamma, il babbo, gli zii e magari anche la scaltra portinaia? Eccovi qua, tre giochi di presti, digitazione, facili a imparare, facili a eseguire, ma difficilissimi a essere risolti dagli incompetenti. Cominciamo con il Magico 10. Quattro cartoncini presentano i numeri 10, 16, 18 e 19. Dopo averli capovolti e mescolati, riuscirò sempre a indovinare dove è finito il Magico 10. Eccolo! Ma anche qui. E anche qui. E anche qui. E ora volete la spiegazione? Nel presentare i cartoncini voi avrete l'avvertenza di coprire col pollice il braccio del 6, la testa dell'8 e la coda del 9. In tal modo i presenti avranno l'impressione di vedere uno 0 che insieme all'1 che lo precede formerà sempre il numero 10. Ora, spostiamoci al secondo piano e guardiamo il gioco dalla prospettiva del mentalismo. C'è qualcosa che non funziona. Se ti presenti come mentalista, non dirai che stai indovinando dov'è il 10, ma che riesci a individuarlo perché lo vedi con il terzo occhio. A questo punto devi fermarti. Perché se mostri che tutti i cartoncini si sono trasformati in 10, allora l'idea del terzo occhio va a farsi benedire. Se sono tutti uguali, chiunque l'avrebbe individuato anche senza terzo occhio. La trasformazione resta una magia sorprendente, ma non ha nulla a che fare con la cornice del mentalismo. Fermarsi al momento giusto è cruciale in molti giochi di prestigio. Nel Codice dell'Illusionista, il mentalista Vincent Walder parla della Cassa delle Spade presentata per la prima volta a Londra nel 1865. Alcuni concludono l'esibizione mostrando l'interno della cassa a vuoto. E l'assistente spunta da qualche parte in mezzo a unico. Personalmente non ho mai capito. Riflettici un attimo. L'illusione consiste nel fatto che l'assistente sia trafitta dalle spade e sopravviva. Ma se poi la cassa viene mostrata vuota, perché lei è da un'altra parte, si annulla l'effetto originario. In pratica non c'è mai stata lì dentro, quindi le spade erano superflue. Molte opere funzionerebbero meglio se si fosse fatto un passo in meno. Ve lo ricordate intelligenza artificiale? David è un robot che vuole diventare un bambino e conoscendo la storia di Pinocchio va in cerca della fata turchina. La incontra in fondo alla baia di New York senza accoggersi che si tratta di una statua. Arriva dal Luna Park ormai sommerso di Coney Island. Giunto al suo cospetto, la invoca. Ti prego, ti prego, fammi diventare vero. Fata turchina, ti prego, fammi diventare vero. La telecamera si allontana lentamente. Una voce ci dice che quel momento si prolungherà per sempre. Il piccolo ripeterà all'infinito quella richiesta senza accorgersi di parlare a una statua. È un finale perfetto, straziante e poetico. Ma Spielberg non è Kubrick. Decide di proseguire e la mezz'ora successiva butta tutto in vacca. Fermarsi in tempo è un principio fondamentale, ma possiamo salire ancora di un piano. Ci aiuta a farlo Francesco Busani, che nel suo libro Magia tu per tu si chiede come incoraggiare una relazione di qualità con chi partecipa ai nostri giochi. Il principio numero uno è di mettere da parte l'egocentrismo e qualunque mira di potere. Consapevoli che l'ego è una brutta bestia da tenere a bada, si deve mirare a un rapporto di servizio piuttosto che di dominio. Ma cosa vuol dire in pratica? Francesco lo scrive qualche pagina dopo. Sono affascinato dagli effetti in cui lo spettatore diventa il performer, ribaltando i ruoli. Il disarmante stupore dello spettatore che si rende consapevole di aver realizzato qualcosa di paranormale è la gratificazione più grande a cui io possa aspirare. È una rivoluzione copernicana. La terra non è al centro, ma ruota intorno al sole. Anche l'illusionista deve togliersi dal centro e ruotare intorno allo spettatore o alla spettatrice. Nel caso di questo gioco l'inversione è semplicissima. Signora, lei non lo sa, ma possiede un intuito straordinario. Si concentri e provi a indovinare dove si trova il numero 10. Questo? Ma è esatto. Un applauso alla signora. Qualsiasi spettacolo tu stia scrivendo, pensa a Copernico e chiediti come posso mettere il pubblico al centro e farne il sole del mio spettacolo? Ragionando così, farei qualcosa che è al contempo stupefacente e rivoluzionario. Grazie. 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 Grazie.